La Porta Lupi Salumi è un'azienda di origine artigianale situata nei pressi del Monte Rosa. Nasce nel 1969 e da allora si distingue da sempre per una grandissima attenzione al cliente, prezzi competitivi e una forte cultura di prodotto. Lo standard qualitativo mantenuto con scrupolo e la proposta di prodotti di alta gamma per ogni fascia di prezzo sono le caratteristiche che fidelizzano da sempre i clienti storici e si educano i nuovi. Tradizionalmente l'azienda segue con estrema cura e flessibilità le più diverse necessità di posizionamento, battuta di cassa, packaging, private label, consegna, normativa nazionale eccetera del trade, indipendentemente dalla dimensione di vendita. Il ricco assortimento senza allergeni con selezione delle migliori tradizioni italiane, con prodotti personalizzati e con sempre nuove ricette, soddisfa le esigenze dei diversi segmenti di mercato italiano e straniero. E la Porta Lupi è inoltre certificata IFS e BRC dal 2006. Oltre alla linea tradizionale che comprende prosciutti cotti, salumi o affettati, Porta Lupi presenta il Cibus 2014, lo spallotto di tradizione piemontese e la nuova linea di salamini golosi tra il quale si possono trovare i gusti come il curry, il tartufo e il pistacchio. Ehi, da quanto tempo sei maialino in Porta Lupi? Ma ti trovi bene alla Porta Lupi? Ma senti, ma cambieresti mai azienda?